Io credo che la forza femminile debba nascere unicamente da noi stesse. Penso anche che dovremmo ridurre lo spirito competitivo che spesso emerge tra noi donne e da contrario dovremmo cercare di aiutarci, sostenerci e gioire ai successi l'una dell'altra. Bellezza autentica per me è semplicità. Una donna affascina quando rimane se stessa e apprezza ogni particolarità del proprio carattere e del proprio corpo e soprattutto quando si mostra sicura di sé agli altri ed anche ovviamente a se stessa. Se dovessi diventare Miss Italia 2024 cercherei di insegnare alle generazioni vicine a me ad emozionarsi anche per le piccole cose e soprattutto per le piccole cose. Per me questa è la chiave che apre le porte della felicità e della spensieratezza.